Ola, buonos dia, mi chiamo Suba Di Medini, sono la mujer del titolare del Circo Twister, siamo qui in Leganese nel recinto feriale San Nicaggio del metro, teniamo una funzione di 2 ore, molto intrattenita, con paliasso, acrobata, malabare, muñecos, spiderman, cantano e toccano al vivo, è una funzione di non perdere, perché dove stavamo antes, in Hortaleza, Baracas, in vari siti di Madrid, abbiamo tenuto molto esito, qui si tiene promozioni per voi, il viernes 2 per 1, il jueves 10 euro, al domingo si tiene Niño Gratis per la mattina a 12 del sábato e a 12 del domingo. Io invito a tutti al circo, che è una funzione di non perdere, circo è cultura, è un insegnamento di vita, anche di artista, vamos a vedere se qualcuno viene al circo, vamos! La magia del circo llega a Leganese, Circo Twister, installato nel recinto feriale del barrio di San Nicaggio, del viernes 17 al domingo 26 di ottobre. Metro Sur, San Nicaggio. Acrobatas, conambulistas, payasos, equilibristas, spiderman, musica en directo, no te lo puedes perder, precios económicos. Capito Corcho! Capito Cordullah!? Capito Corcho! Capito Corcho! Capito Corcho! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.